Il Rizoma, il mondo delle corse, è sempre stato importante. Collaborazione, stima, amicizia con Lucio Cecchinello e tutto il team delle CR ci vedono insieme da diversi anni nel mondo della MotoGP. Collaborando con i migliori ingegneri abbiamo creato prodotti per rendere le moto più sicure e più veloci in tutti i circuiti. Nella ricerca della perfezione assoluta. Ispirati dalla forza della natura e dei suoi elementi abbiamo creato STED. La prima appendice aerodinamica per uso estremo con funzione specchio stradale. L'aerodinamica nelle corse è stata sempre importante. Oggi è anche diventato un elemento di controllo. Le moto nel corso negli anni si sono evolute da essere molto basse con un peso equamente distribuito nella parte anteriore e nella parte posteriore ad essere più caricate sull'avantreno. Il peso anteriore aiuta tantissimo a migliorare la maneggevolezza della moto. Poi sono arrivate le MotoGP. Il problema che hanno dovuto affrontare gli ingegneri era proprio quello di come riuscire a trasferire la potenza a terra. Hanno dovuto rivedere la geometria della moto e trasferire nuovamente del peso sul pneumatico posteriore a svantaggio della guidabilità. Oggi è cominciata una nuova era per la MotoGP, quella delle appendici aerodinamiche. Le appendici aerodinamiche creano un grande vantaggio. Possiamo avere un baricentro della moto a livello statico particolarmente spostato sul posteriore e generare peso necessario per avere la stabilità in frenata e la maneggevolezza grazie al flusso dell'aria, grazie alla forza del vento. L'esperienza che abbiamo maturato in pista insieme a Rizoma ha permesso loro di creare un prodotto estremamente innovativo. Sì, abbiamo provato in Spagna varie volte con la RCV S di provare senza alas. Al principio è iniziato. E la verità è che era una moto che in molte volte era difficil di controllare, difficil di conduzire, e quando abbiamo posto il Stelz era molto meglio. e quando abbiamo posto la Rizoma Stelz, io ho preferito di utilizzare la Rizoma Stelz. Perché? 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 Tutta questa passione è la chiusa in ogni singolo Stelz. Grazie a tutti.